Partecipo molto volentieri a questo convegno sui profili fiscali della Digital Economy e il mio contributo tenderà semplicemente a dare una visione pratica di quello che è lo status quo e di come appunto le multinazionali e tutti gli operatori stanno al momento interpretando e quindi applicando tutta la normativa vigente sulla Digital Economy. Il convegno come quello di quest'oggi è molto importante non soltanto per dare una visione di quello che sono le momentanee e contemporanee riflessioni ma soprattutto per riuscire insieme a cercare di porre degli interrogativi a cui insieme con un contributo del genere riusciremo poi a prospettare i passaggi successivi nell'evoluzione interpretativa, giurisprudenziale ma anche legislativa in materia di Digital Economy. Io do il mio contributo in quanto operatore, in quanto appunto tax manager all'interno di una multinazionale e sto cercando appunto di contribuire a fornire come il mio gruppo multinazionale a livello mondiale, a livello globale ha al momento posto in essere dei modelli specifici di transfer pricing e di fiscalità internazionale per cercare di coprire le tematiche derivanti dalla Digital Economy.